Ciao ragazzi, buonasera a tutti, scusatemi se questo video l'ho fatto ora perché vorrei parlarvi della scelta che ha fatto Nilo Far che ha scelto Giordano io sinceramente non sono contentissimo perché ho fatto il tifo per Nicolo io speravo che Nicolo era la scelta ma come infatti non è stata la scelta ragazzi perché Nicolo ha fatto un percorso straordinario non si è mai arreso, non si è mai lamentato con qualcuno non ha mai parlato di Giordano in un'esterna, mai non si è mai arreso, ha fatto il suo percorso l'ha fatto anche bene io dico una cosa Nilo Far mi piaceva, ora non più perché sinceramente alla villa fai vedere che Nicolo ti piace te lo baci e poi scegli a Giordano a me questo non mi piace perché sinceramente Giordano ha fatto un percorso bruttissimo prima di vista l'esterna di Giordano ogni bacio se ne andava sempre alluccava sempre Nicolo ogni bacio di Giordano a Nilo Far Nicolo non si è mai arreso non se ne è mai aiuto Nicolo non se ne è mai andato Nicolo ha combattuto per averla a Nilo Far e ha combattuto ha combattuto per averla a Nilo Far quelle lacrime di Nicolo dicono tutto dicono tutto perché Nicolo ci teneva ci teneva tanto a Nilo Far ha fatto un'esterna una di quelle esterne più belle più belle delle altre quindi mi dispiace troppo per Nicolo ho fatto tanto il tifo per lui Giordano non si meritava la scelta perché ha fatto uno confronto in strunzato in d'acquilla esterne il pubblico di uomini e donne è stato acceso per ad aderne perché quando avete capito l'ha chiamato prima Nicolo ha fatto un burdello perché voi sceglieva Giordano io mi aspettavo che sceglieva Nicolo perché Nicolo è un bravo ragazzo non si è mai lamentato è un ragazzo d'oro si deve dire un ragazzo d'oro io dico una cosa a Nicolo Nicolo non stare male non stare male perché sei un bel ragazzo sei un bel ragazzo e tu fai una cosa vatti a divertire perché ce ne stanno ce ne stanno di femmine meglio di Nilo Far non ti preoccupare lo so quelle lacrime dicevano tutto dicevano che hai perso una ragazza più bella che è la Nilo Far però la ragazza più bella adesso la devi prendere fuori e non da uomini a donne capito Nicolo? speriamo che almeno mi fa essere contento Sara Sara deve scegliere Lorenzo perché se no sceglie Lorenzo sinceramente sinceramente sarebbe tutta cosa di un ducesso io vado a dormire lasciate mi piace se volete commentate chi ci piace umine donne chi ci piace umine donne può commentare qui sotto io aspetto e ditemi se ho ragione iscrivetevi al mio canale e niente di più ci vediamo a Napoli Crotone di domenica però non lo so se ci sarò perché sto in un battesimo quando farò presto farò un video e parlerò dell'ultima partita di Napoli Crotone Nicolo datti forza perché tu perché tu ma che Nilo ti è ammolato tu in questi giorni secondo me ti fidanzi sai messi a dire ciao a giù forza Napoli grazie